Ci sarebbe un movente passionale dietro l'omicidio di Ismaele Lulli, il 17enne trovato con una ferita da taglio profonda alla gola nel boschetto vicino alla chiesetta di San Martino in Selvanera a Sant'Angelo in Vado. I carabinieri del reparto operativo di Pesaro hanno fermato due giovani albanesi, due ragazzi di 20 e 21 anni, uno residente a Robania e l'altro a Sant'Angelo. Entrambi, conoscenti di Ismaele, sono stati interrogati per tutta la notte e in mattinata è stato disposto il fermo. Secondo fonti investigative sarebbe stata dunque la gelosia a spingere ragazzi ad uccidere Ismaele. Intanto gli inquirenti cercano di ricostruire i movimenti dei sospettati negli ultimi giorni. Hanno perquisito le abitazioni, mentre sulla macchina di uno dei due iris hanno fatto i rilievi. Agli albanesi i carabinieri sarebbero risaliti attraverso i tabulati telefonici del cellulare della vittima. L'attenzione di militari del comando provinciale, guidati dal colonnello Antonio Sommese, è particolarmente concentrata su loro. Si cerca di capire se il 17enne sia stato ucciso altrove e poi portato in auto nel boschetto, oppure se si è arrivato vivo fin lì. Sarà l'autopsia, chiarire l'ora del decesso, ma che ad agire siano state più persone lo fanno pensare i segni di trascinamento del corpo. Il ragazzo è stato ucciso accanto a una croce in ferro e poi gettato in un dirupo. Per farlo, dato che lui era magro, anche se alto, un metro e ottanta, dovevano essere almeno in due. Il giovane infatti presenta sul corpo diverse tracce di nastro adesivo per pacchi, come se avessero tentato di legarlo. Oppure è stato legato e poi il caldo di questi giorni ha fatto gonfiare il corpo e i legacci sono saltati. È stato un delitto feroce. Chi lo ha sgozzato lo ha fatto con violenza, tanto che Ismaele è stato quasi decapitato. Sul corpo altri tagli ed escoriazioni. Nelle vicinanze del luogo dell'omicidio sono stati ritrovati degli indumenti insanguinati. È stato recuperato inoltre anche il cellulare del ragazzo, da cui era partito un SMS alle 15.30 dell'altro ieri, diretto alla fidanzata e alla madre. Non mi cercate, voglio cambiare vita, c'era scritto, vado verso Milano. Una frase inviata probabilmente dai suoi assassini per ritardare le ricerche. L'appello su Facebook degli amici e dei familiari aveva preceduto di poche ore il ritrovamento del corpo senza vita del 17enne. La denuncia di scomparsa infatti risale a domenica pomeriggio e tra la sera e la mattinata di lunedì avevano deciso di lanciare un appello con una foto del ragazzo, dando la notizia della scomparsa e chiedendo una massima diffusione sui social network. Poi, poco dopo, la macabra scoperta che ha mandato in frantuni ogni speranza. Un abitante della zona ha riferito agli inquirenti che nella notte, tra domenica e lunedì alle 2.30 circa, i cani di San Martino in Selvanera erano particolarmente agitati, come impazziti. Non si sa ancora se l'irrequitezza degli animali fosse legata al pastaggio di una volpe o proprio perché in quei momenti veniva ucciso il giovane. Nel paese sono state interrotte le attività recreative programmate ed è stato proclamato il lutto cittadino in attesa di sapere quando si potrà celebrare il funerale.